Sì, spesso! ... 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 grazie 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 Ok, finito il ruolo, te l'ho fatto. Ecco. Oh, perché? Davanti a rete. 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 Oh, stai fortunato, ma vuoi un'altra cosa da fare. Ma come? Ma come? Sceglie la roccia? Vabbè, allora. Dai, dai, grigli! E ciò, stai scurì. Dai, dai, grigli, ciò. Ti li, isti. Dai, ti ti sanno la roccia? Dai, ci si le faccio la roccia. Dai, ci si le faccio la roccia. Dai, che mi si sta? No, chiede, ciò. Ed è un ruolo, che è un ruolo che ha detto? Ti li vedei? Eh, Bruno, ma ti treba poc' dopo la corda, si te ne va. Alla ne vedece. Eh, ne vedi, non vedi. Non vedi, non vedi, non vedi. Non, non... Non vengono! O... E io vengo? Ma che c'è il prè e poi? Ma poi c'è il paletto? C'è un po' il paletto? Non, non vengono Ah non, non vengono T'acqua per tutto il rispetto di una forza Fai tirer! Ah ma ti metti un po' per andare ma che ti rifiuti nel cuore? allora, scuola dai fuori dai tu sei perduto? dai c'è una roccia dai 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 ora non sapevi andare in questo? no non sapevi andare in questo? no vai dai dai hai fatto solo voi? no oggi non 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 Grazie a tutti